Vediamo come terminata la strutturazione del topic, è possibile creare nuovi task, intesi come un compito già pianificato che va eseguito e che permette di monitorare tutti i processi in esecuzione. In questo modo emergono inefficienze, passaggi mancanti o da eliminare. Per creare un nuovo task, basta cliccare sul tasto più, aggiungi task. La procedura che segue sarà la stessa già vista per la creazione del topic, ossia si aprirà una finestra dove è possibile aggiungere un titolo al task, campo obbligatorio, una descrizione, facoltativa, un'eventuale scadenza ed indicizzarlo secondo stato e priorità. Per procedere alla creazione del task, occorre confermare cliccando sul tasto aggiungi. A questo punto avremo una vista d'insieme di tutti i task creati. Gli strumenti messi a disposizione inoltre permettono di filtrare agevolmente i task secondo lo stato, la priorità, i tag o i partecipanti. Allo stesso modo, per quanto visto per il topic, è possibile associare una o più immagini al task, allegare un link, un modello o un documento caricato in piattaforma, oppure qualsivoglia file attraverso il servizio di chat e comunicare in maniera immediata e dinamica con un eventuale collaboratore. È possibile personalizzare la modalità di visualizzazione, scegliendo tra la vista grid o la vista board. In entrambi i casi, accedendo al menu contestuale dei task, rappresentato dal simbolo dei tre puntini, è possibile modificare il task, gestire i partecipanti o eliminarlo. In particolare, vi ricordo che nel caso in cui ci troviamo nella modalità di visualizzazione board, è possibile cambiare lo stato di avanzamento di un task con un semplice drag and drop.